Avrebbero potuto fare la fine delle 49 persone morte in un barcone soccorso il giorno di ferragosto. Quando però hanno iniziato a vedere alcuni compagni di viaggio perdere sensi, si sono ribellati sfondando la botola chiusa. Soltanto in quel momento, hanno poi raccontato, abbiamo ripreso a respirare. Sono stati alcuni dei 350 migranti una volta sbarcati a Pozzallo, dunque a indicare chi era stato a chiudere quella botola. Un marocchino di 18 anni e il timoniere, un tunisino di 35, quest'ultimo ha confessato. Ad attenderlo, una volta respinto dalle autorità italiane, come accade per la maggior parte delle persone provenienti dal Nord Africa, ci sarebbe stato un pagamento di 2.500 dollari dei trafficanti. Basti pensare che solo per quel viaggio l'organizzazione sarebbe riuscita a incassare qualcosa come 700.000 euro. Ma per qualcuno che riesce a sopravvivere a un viaggio in mare, c'è qualcun altro che invece non ce la fa. Insieme a 218 migranti arrivati oggi a Catania su una nave militare croata, c'era anche il corpo di un sudanese morto durante la traversata per cause naturali. Il gruppo è composto da persone provenienti dalla Siria, dalla Somalia e dall'Eritrea. E proprio oggi, mentre i migranti raccontavano come erano riusciti a liberarsi dalla stiva, i migranti del barcone di Ferragosto con i 49 morti sotto coperta hanno ribadito davanti al giudice le accuse nei confronti degli otto scafisti. Nella stiva, hanno accertato gli investigatori, erano stati sistemati solo uomini in base alla loro nazionalità. Facevano ricorso alla violenza con calci, pugni e colpi di scinghia, hanno raccontato i testimoni, se solo provavano uscire la testa dei boccaporti.